Filippo Signorin aveva 26 anni e morto per causa in corso di accertamento dopo aver perso il controllo dell'auto, finendo inesorabilmente contro un platano. E' morto sul colpo con la frazione di sindacale a Concorda Sagittaria oggi, l'istata a lutto. Filippo era la guida della sua auto. L'incidente è mortale poco dopo le 4 del mattino sulla Triestina Bassa, in località Viola di Serrai. Sul posto il suo M118 di Portogruaro, ma i soccorsi sono stati inutili. I rilevi dell'incidente, volte ricostruire la dinamica dello schianto, sono ora affidati ai carabinieri di Portogruaro. Secondo quando si apprende, l'incidente mortale è stato provocato da una fuoriuscita autonoma. Con la famiglia e gli amici lo piange anche la Giulia Sagittaria, squadra di calcio dove Filippo Signorin aveva mostro i primi passi nelle giovanili del sindacale calcio, per poi vestire anche le maglie del vivaio nero-azzurro, sino ad entrare a far parte del gruppo degli Under nell'ultima avventura concordiense in Serie D e nella stagione successiva disputata nel campionato di eccellenza.